Signori buonasera, oggi siamo su... Siamo su Radio Gigi, ragazzi benvenuti in questo fantastico episodio di Minecraft il gioco coi cubetti che appassiona giovani e grandi siamo pronti a cimentarci nell'avventura più fantasmagorica e colorata del 2024 Allora bimbi questa è un'avventura, abbiamo già provato il pack però abbiamo modificato delle cose adesso speriamo che sia più equilibrato e speriamo che il giallo non ci butti dentro i fossati pieni di mostri che non possiamo sconfiggere Quindi signori benvenuti su Minecraft Allora Domologo non sa assolutamente niente, già l'ho giocato al vanilla e comunque non è boomer come Domologo e quindi qualche cosa puoi impararla Allora Belli, io direi, visto che l'altra volta mancavamo di una casa, ci prendiamo questa casetta qua A meno che non vogliate fare esplorazione, laggiù ci sono tre torri E non vedo gli aeroplani, quindi ci sfondano Oddio c'è un bambino C'è un mini franco Oddio lo sento che fa rumori da Oddio, ragazzi scusate Ma cosa fai? Lascialo giù Dov'è? Oh, vado a Domolo, forse l'ha riconosciuto come suo genitore Ma c'è un nome? Ma tutti e due mi seguono adesso sti cosi? No, Domolo Domolo, prendi il bambino, prendi il bambino Non è un bambino questo, è un mostro Ma questo è quello che è cresciuto No, no, questo è il padre Padre single che deve dare gli alimenti alla mamma E infatti fa l'agricoltore perché non riesce ad arrivare a fine mese E la mamma che fa? Ma queste cose cagano Come cagano? Ma che ho fatto? No, regà, ce l'ho nell'inventario Ah, c'è la pet Cioè puoi renderli Sì, sono Li hai oggettificati, ecco Eh, non è bello già l'uggettificare le persone Allora, vogliamo fare un po' un tutorialino a domo? Punto primo, ragazzi, i nostri obiettivi Gli obiettivi sono fare almeno due letti Perché sennò non responiamo qui quando moriamo Fortunatamente il... Ah, giusto Però si respona qui vicino Ah, ma ci sono tre letti Ce ne sono tre Ah, allora il mio è questo No, vai No, vai Devo stare in stanza con Giallo Andiamo a dormire La stanza stessa Allora, visto che ci siamo E visto che l'altra volta stavamo molto stretti Io direi di eleggere qua fuori Una zona di container, di farming, di crafting Così spiego a domo un pochino di minecraft Domo, vieni qua Sto qui Non... sei di là? Dove sei? Eh, la casa è grande Mi sono aperto Allora, con un blocco di legno grezzo Lo puoi portare nella tua crafting table personale Due per due Per farlo diventare OAC planks, no? Adesso se prendi quell'OAC planks E lo fai due per due E ottieni una crafting tables Questo qui? Perfetto No, domo Questo non Ma come li hai fatti questi? Perfetto Ah, forse è questo? Questo qui? Ma questi sono i log, domo Questi sono i log Le devi spacchettare in... In... Cosa c'era un log? C'è scherito E lo... Ah, un OAC Un OAC log Un OAC di OAC Ah, comunque Domo, una cosa di debug Tieni premuto ALT Eh, sì? È per togliere la shader E premi ALT e F4 Vai No, no, no Non è bello No, so cred... No, vabbè Non ci posso credere Non ci posso credere Non ci posso credere C'è che scato giallo No, giallo Ma com'è possibile? Va bene È perché l'hai detto giusto Ha capito? Premi BAN Eh, per togliere la shader E la shader No Eccolo Vai, domo Stiamo andando Dove? A prendere la pietra Per poi prendere il ferro Eccoci Dai, andiamo, andiamo Di là, di là Di qua, di qua Forza, forza Allora, regà Qua c'è una caverna E ho visto una bandiera rossa Che significa soltanto una cosa Comunisti No, no, scusate Andiamo di qua Non sembra una caverna Sembra un pezzo Non lo può diventare Lo può diventare? Oh! Hai trovato un lago di lava Anzi Ma è qua sopra? È più in alto? Sì, eccolo Guarda Chi è che c'era la crafting table? Era il mio amico Domoloschio? Io ne ho una E allora piazzala Ah, io? Eh, perché no? Eh, credo sia No Ertanespola, regà Ma perché la devi mettere Per forza lì? Ecco Adesso Adesso hai preso Tre di pietra? Ho preso Quattro di pietra Perfetto Con gli stick Come prima per il piccone Fai il piccone più performante Perché quello di legno Fa cagare Come li faccio? Come col piccone Hai fatto il piccone De legno? È uguale È una spada di pietra Bravo Però Vabbè Sì Ok Ne prendo un'altra Senti Adesso che abbiamo Il piccone giusto Mio caro Io direi di fare una miniera Sotto casa Così da raggiungerla Lanciandoci Siamo pronti? Stiamo andando? Una miniera? Eh, pure io sono confuso Vabbè, voi venite Venite con me Vi spiego Vi spiego Qual è La prassi Va bene? Allora, prima con la pala Domo che sei tu il possessore E poi col piccone Scavare verso il basso Ma dritto per dritto? Dritto per dritto Incurante del fatto Che potresti incontrare Cose di lava E invece io e Giallo Scaviamo vicino Accanto Così facciamo? Cosa che non riesca a scavare Con la pala? Infatti devi scavare Con il piccone Troppo complicato Eh, lo so Pensa, eh Col piccone scavi la pietra E con la pala scavi la terra Effettivamente Chi l'ha inventata Queste diavolerie? Un goblin? Un goblin? Dove sei? Che fa? Mi segue? Dove sei? È un trader quello Torna da noi Dove ti troviamo? Eccolo Ah È un Cidile, cidile Perché segui? No, no, no Guarda, guarda Se gli dai dei minerali di ferro Te ne dai il doppio, zi Boni Oh, ma cobblestone per sberaldi Regà Oh Cobblestone Abbiamo un sacco qua Ma è pazzo Regà, questo è buono Io direi Dove vai? Non è andato No, no Non scappi Bastardo Intrappolalo No, adesso lo portiamo con noi Mettigli un guinzaio Siete d'accordo a portarcelo a casa questo? Sì Portamolo da noi Io ho paura che desponi Perché i vantaggi sono troppo Diamogli un nome Diamogli un nome Eh, non c'abbiamo un name tag Lo dobbiamo cercare Portiamocelo con noi finché non ce l'abbiamo Dai Aspetta, aspetta Adesso cerco una soluzione moddata No, la cage C'è la cage C'è la cage Fermi tutti Ora prova a chiapparlo E speriamo che lo prende L'è fatta? Lo prende? Uh, ce l'abbiamo Piccolo bastardo E poi lo puoi mettere qua Lo adagi qui Adesso l'adagio Ah, eccolo Però adesso non dovrebbe desponare Fino a quando non troviamo un name tag Per dargli un nome Così che non desponi Allora, rega No, no, no Va Sì Facciamo L'armatura di ferro E poi la circondo Con dei pezzi Di oro Per ottenere L'adventure chestplate Così ci sblocca Questa compagnia per un drago Dov'è un drago? Adesso stiamo andando Giuro Quindi adesso se riscattate le quest Vi dà il full set Tranne il corpetto Di Dell'avventuriero Dove sei tu? Cazzo Ma te Santo Dio Sì Ma te scavi sotto Dove scavi? Eh sì Cosa? Nel senso Io sono andato verso le scale Per salire E lui aveva scavato Un bel pozzo profondo Come la morte Diamanti Diamanti Dom I diamanti Dom Dom I diamanti Siamo ricchi Sei diamanti Un diamante Lo vedi? Io l'ho detto L'ho detto Non te la prendere L'euforia dei diamanti Ah le scale Sono arrivate le scale Amici Ok possiamo prendere Con un secchiello di lava Perché no? Sono sei diamanti lì Così possiamo Fa così Le ho messi Ah È sempre molto divertente È sempre molto divertente Dai andiamo all'esplorazione Di questa caverna Forse Andiamo Mi piace che dopo Non ci sono nemici E c'ha la picca in mano No? Questa caverna Sento un rumore Uno spawner Combatti Combatti per la tua vita Presto Ma guarda Mi hanno abbandonato Allora Non distruggete Ah Dopo vieni Usa la spiar Usa la spiar C'è un'armatura C'è un'armatura C'è un'armatura Attento Ok Ma quindi ogni volta Che apro sta cesta Esce Ah no Sto giro no Ok Quanta roba strana Guarda qua Guarda qua Cosa? Qui sopra Qui sopra dove? Girati Vedi? Cosa? Cos'è quella roba La luccicante L'arche in gemma Oh Ma che posto è? Che cazzo è? No vabbè Andiamo a esplorare Io non c'ho la spada Però ragazzi Non c'è niente Fa paura però eh È un mondo fatato E pericoloso C'è il lapislazzo Lunar stone Lì c'è una gabbia D'infuocata Eh quello è uno spawner Non ti avvicinare Che sennò te scubano Andiamo No no Diamanti Diamanti Prendili Prendili Eh vicino allo spawner Sono E qui anche dove sono io Ma io non so se posso prenderli Ah si li posso prenderli Quel piccolo di ferro li puoi prenderli Mi bastonano Eh ti serve Giallo Oddio c'è un mutant schelet No 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 Datevi Datevi via Datevi via Datevi No ma fa poco danno eh Eh ma io non c'ho la spada Ha 177 di vita Oh Come? Mi ha fatto volare Oddio è matto È matto Dove siete? Dom aiuto Non so dove sei Dom arrivo Arrivo Prendo il diamante intanto Ma come prendi il diamante Ammazza il cosa Ammazza il tizio È un Oh Ho fatto volare Dom aiutaci Oddio Attenti Sono arrivato il momento giusto E splode Prendete i pezzi Prendete i pezzi Che sono importanti Come faccio? Come faccio? Destro 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 Li puoi prendere Li puoi prendere Fida di me Cosa ci facciamo? Ci facciamo un'armatura Dello scheletro Mi sento più niente Vieni vieni qui Inventario Inventario Qui 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 Chest chest Giallo sei pronto? Per cosa? Dobbiamo fare quello spawner Che Dom sta a trigger Tra un po' Andiamo Forza forza Avvicinati Domu Beh Ma questo è quello Quello unificante No 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 Questo esplode In tanti mostri E pochi mostri No Ci sono figure Nello scuro No L'hai rubato Eccolo Domu Gira di Uccidi Damu Io vado sulla strega C'è un fantasma Lo picchio Oddio Ho una testa di creepers Lo scheletro Non avrà vita facile Ci sta da un sacco Di questine Ci servono ancora Sei zombie Che paura Ma c'è troppa roba Troppa roba Ah ma senti Senti C'ho un'idea Se facessimo delle chest Più grosse Così le possiamo portare Con la carry on Cosa vuol dire Ci sono delle chest Nel moddato Che sono più grosse Sprechiamo un po' Di materiali Tipo Il ferro Però Sono esponenziali E guarda la chest Di oro Quanto è cicciotta Ora prendiamo Le cose utili E le buttiamo Qua dentro Ovvero Voi buttate la roba Qua dentro E io tolgo Le cose inutili No 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 Un creeper Ha distrutto tutto C'è un altro volante Ma come volante Da dove Volano regà Da sopra Da sopra Da sopra regà Io propongo una ritirata Ma perché ci stanno I creeper volanti Prima di andare Decidiamo come farci L'equivaggiamento Abbiamo 17 Allora io farei Un piccone di diamante A testa Che sono 9 Vuoi il rapier Che è lo stiletto O vuoi Lo No C'è pure il knife Per giallo Il diamante Eh però Il knife Regà Il knife Non è un'arma forte Ah ok È una cagata Allora Catlas 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 Ecco fatto Vediamo Ma uno solo Ne prendo Vuoi due Catlas Non so se funziona L'ambidestria Qui eh La katana Che figa Dopo tu come pensi Di combattere Cos'è un chakram È quello di Xena Ma lo lancio quindi Sì Io ho trovato la mia ragazzi Ah se lo lancio Voglio il chakram Scusa Se lo lancio Il chakram Tutta la vita E proviamo il chakram Tieni Sì lo lancio Oh Dove sta Fa una specie Di Di mosse È lo scudo È lo scudo Di Captain America Vai A me Sinistro Sinistro Su Si Andiamo la guerra Forza Alla pugna Soldati Guardiamo il fiume Ah tattica Tattica Fermi Aspetta Aspetta Lì c'ha la campana Con cui chiamano i rinforzi Bastardi La dobbiamo togliere Quindi Oh Spara Sparano Ci sparano Ci hanno visto Ci hanno già visto Ah non le vedete Gli infani Eccolo Eccolo E' qui davanti Uccidetelo La vedetta Non fategli dare l'allarme Senti dobbiamo trovare il cancello Forza Andiamo a destra Dobbiamo entrare da qua Ah no è la porta Signori Forza Alla remmaggio Io vado alla campana Non c'è nessuno Qua sopra Qua sopra c'è qualcosa Me lo sento Vai l'altro Senti Senti Troppo stretto Per combattere Eccoci Cassa Un anello Esperienza Un anello Che ti dà immunità A poison Bono Venite qui Baldi amici Aspetta Ah grazie Hai preso Guardate dopo Quanto si impalla Quando guarda le ceste E rimane proprio Un verbo Leggi qua Leggi Che c'è scritto Ho trovato questa L'ho preso Oddio Damo Dove sei? Non lo so Ma dove sei? Ma dove è finito? Perché? Che è successo? Andiamo Saliamo 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 Antiche scritture Ma dove sei? Ma tutto Proprio così Questo è un inscription table Amici Potrebbe essere Qualcosa di magico Potrebbe essere L'introduzione A qualcosa di magico Qui c'è C'è un parkour Ah Credo No non è vero Ah no sì Delle ceste nascoste Oh Delle ceste nascoste Oh Libri Amavano scrivere Stupidi intellettuali Oddio Ma sopra Che c'è ancora più sopra Che c'è ancora più sopra Che c'è stata mercata È vero Oh Mamma mia Lo chiamano Occhio di lince Dopo dobbiamo salire Tomo Tomo vieni Aspetta Tomo Tomo sali Tomo sali Sali Tomo devi salire Tomo sbrigati C'è un Andarci Tomo Uccidilo Tomo È morto È morto È morto Inchiostro leggendario Giallo tu Quando Tomo apri una chest Devi aspettare almeno 40 secondi Prima di far qualcosa Questo è la mod che serve Per fare gli incantesimi Le scroll magiche Tipo questa Che cliccherò a caso Oh Ma è stato spitto Oddio Oddio Lo vedete Signori ci stanno attaccando Li vedo Li vedo Lo prendo alle spalle Oddio Siamo pronti Dai 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 Prossimo Andiamo 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 Forza 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 Andiamo Andiamo Stiamo andando alle due torri Le due torri Allora dobbiamo decidere Se si può entrare Si può entrare Si può entrare Attenti Con calma Ma dopo c'è Si Andiamo Qui c'è qualcosa Cos'è Un item frame Con un illarger gem Aia Porco di Andiamo Oh Si Se ne pronti È il momento Ci sarà un boss Pado Ci sarà Facci sapere C'è una chest Shhh E' andata bene Fino adesso Ma l'altra torre Secondo me Sarà più pericolosa Come ci andiamo Di là Così Ci possiamo buttare Così No Mi sono fatto Ma scendi Così Aspettano Giallo Sono all'ingresso Della torre Aspetta Madonna Questo Potete taglio Le mani Oddio Giallo Lu Hai ricercato Sono fermo Dov'è la torre Ma come dov'è la torre Ho perso la torre Guarda qui Guarda lì Ah sono loro Chi è questo Chi è loro Prendi Prendi Mini melon Prendi Mini melon Che ci facciamo Con i mini melon Ti li metti tutti Ti piacciono a te Tom I mini melon Corre del potere Entro Aspetta Prima della torre Visitiamo Queste casupole Hobbit Ah giusto Ci saranno Dei pezzi Di merda Perché Chi abita Qui Ma forse Sono la tana Di goblin Ci sono Dei porci Oh no Oddio Venite sotto Sotto dove È vero C'è una galleria C'è un mondo Sotto Oh Ma qui abitano Troppo a lungo Guarda Guarda il bel fiore Non è che tipo Aspetta Aspetta È Hobbitville Guarda Guarda Ah lo sei a casa Cosa C'è un buco No No Aiuto No ragazzi Scendi No Non posso scendere Senti No Senti Dai Combatti Robo Combatti per il tuo amico Stai arrivando Stai arrivando Ci tirano Metti le torce Metti le torce Stai arrivando Oddio Dov'è È morto Il bounty king Sì Adomo Comunque C'è i tempi di reazione Minonna È vero Diamante Accette Un eyes of Under Regà È il momento della cesta Vai E' l'ora che lo spustò E' l'ora del pacchetto Che si apre Che si apre Allora raga Noi però Dovremmo Andare A un villaggio Che A uccidere Delle creature Che terrorizzano Un villaggio Dice Siete pronti La direzione È Lest Andiamo Lester Lester Sì o Lester Cos'è È quello Dove c'è il windmill Esatto Proprio lui Notate Merde Oddio Guarda qua Siamo a pre-R Ragazzi Salve buon uomo Smeraldi Per tuniche Ma vaffanculo Va Coglione C'è un golem Non dovete Non dovete assolutamente Toccare i villaggiari O il golem Si adirerà con voi Un cavallo Bello Avete delle mele Sì ce le ho Tieni mangia Bello di papà Tieni cavallo Ti ho dato la mele Uh si È diventato mio Mio amico Questo è il plan di forever Mi aprite la porta Che è chiusa Chi ha Quale porta Questa Grazie Abbiamo un cavallo Oh la waystones Dov'è Qui Rubatela Rubatela La portiamo a casa Poi ce ne serve un'altra Però Allora amici Andiamo a casa Dove siete In gordi A casa Finalmente Uccidi il lama Per favore No Sì Uccidilo Dobbiamo sacrificarlo Sì Uh ragno Spostati Spostati È velocissimo Oddio Chi è che mi sta facendo del male Dom Dom il cavallo sta morendo Non è possibile Mi attacca qualcuno Dom spostati Sai riuscire al cavallo Dom Dopo il cavallo è morto No Il cavallo è morto No Ma tempi contro i miliardi di zombie Regalo Non vi sto mai scendo Questa lì È questa creatura Questa intima creatura Un cavallo Oddio È stata un'esperienza traumatica Oppure andare nelle caverne Che avevamo trovato sotto E possiamo anche raccogliere L'ossidiana Per fare il portale Verso il nether Ma Soprattutto esplorare Quelle strutture Cosa ci chiede? Il dovere mi porta a dire Che aiutare Un debole C'è la cosa migliore Quindi dobbiamo partire All'esplorazione No Ce ne freghiamo E andiamo sotto Perfetto Bravo Immaginavo Andiamo amici Qualcuno di voi Ha dell'acqua Tra le mani? No Perché voglio prendere Questa dannata obsidians E lo farò Ci vorrà un po' Però Dovete aspettarmi Ci metterò 3 2 1 Voilà No Abbiamo l'ossidiana L'hai presa? Sì L'ho presa Stupido caglione Andiamo di qua Andiamo Regà la strongholdsi C'era la strongholdsi Di qua C'era la strongholdsi Dai anello tu Dai anello Tieni anello E tu anello quell'altro Quello di fuoco? Io ce l'ho già Vediamo se è vero Bruciami Io posso resistere Regà Regà Prendete questo in mano E poi Usatelo Oh Ti dà esperienza Oddio Cosa cosa? Ho trovato Delle cose speciali Che intendi Domones? Molto speciali Sì Che intendi? Eh Molto speciali Una gemma Ora te la faccio vedere Guardatela Porco de zio Oh Ma è fighissima Posso mettere le rune dentro Regà Ma quanto fa? Provala sul goblin Fa 19 Credo 19 di danni Porco de zio C'è scritto 19 attack damage? Sì Come si chiama questa cosa? Arcanetist Tieni questo Regà fa 19 di danni Studia Porca trota Change on it To levitate your target Oh che fa? Cos'è? Ho trovato un libro Che ti fa volare Per un po' Vediamo un po' Che funziona Cos'è? Fa così? Fa un piccolo libro E poi ti dà Uno spursino in avanti Vabbè Raga Bisogna andare all'esplorazione Uccidere le mucche Ma poi ci sono altri libri Da leggere Carissimi È vero È vero Io vi posso Proporre un'altra avventura Amici Io sto preoccupato Del fatto che siamo Veramente pieni di roba Eh ma non mi Io ho proposto Di fare il backpack Ma voi non mi cagate Ma li dobbiamo fare Facciamoli Spettacolo Venite venite amici Avvicinatevi Dove andiamo? Guarda Ma non dobbiamo dormire Guarda Sei pronto? Vai Che succede amici? Ditemi che succede Siamo dentro C'è un mondo gigantesco Sembra L'interno di un volcana Lo vedi laggiù? Guardate là La regale Ah è vero Che cazzo è? Un drago Allora ragazzi Dobbiamo segnarci Dov'è questo portale Dov'è questo portale? Ho una cosa da dire a Domo Domo In questo strano mondo Ci sono delle creature Che sono passive Non ti attaccano Sembrano degli zombie Di maiale I porci I porci umani Ma se tu attacchi loro Uccidili Uccidili Come andiamoci C'è l'arma che fa 19 Picchiali Tomo picchiali Picchialo Tomo No con la palestra Con l'ascia Con la figa Questo questo Tomo con l'ascia Questo Ma è Tomo Che c'era con me Tomo Dove sei? Mi stanno uccidere Mi stanno uccidere Sta volando Dai Tomo Che stregoneria è questa? Eh Tomo lo fa lievitare Come il pane Una zanzara Oddio Mi sta succhiando il pene Aiuto Non credo Non credo Che faccio Ok Allora Promemoria? È andata bene È andata bene? No Non saprei E questi funghi Al contrario? Sono scappelle Cos'è questo? Ci sono dei cristalli rossi Solar crystal Che sono? Buoni? Si servono per fare La celestial grade Che è una spada Da 18 D'attacco Oh Minchia Incredibile Prendili tutti Allora No Il boss? Che diavolo è successo? Dove è andato il boss? Occhio a prendere i cristalli Esplodono ogni tanto Ah cazzo Regà? Si? Che è? Ho trovato una strana Aria Un suono particolare Tu dove sei? Sono in Crimson Garden C'è tipo Un tempio maledetto Eccola la struttura Non so che cosa porta Sembra nera forte Esploriamola Crimson Gardens Oh ma lì ci sono dei blocchi strani Guardate qua Questo sembra il territorio del Wither Un altro Oh il terzo Il terzo anello Per il terzo di noi Ah l'hai trovato? Dagliolo a Domo Che è importantissimo Nel Nether prendi fuoco Domo viene a prendere l'anello L'Arcane Essence ci serve? Si 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 ci serve Signori io il mio inventario Scarseggia Una mappa del Nether Vediamo che dice Dice Segna un posto Dove dobbiamo andare Ma perché non ci siamo fatti Gli zaini Prima di partire? Torniamo indietro Possiamo queste Antique reliquie Prendiamo un backpack E torniamo qui Eccoli I backpack Un backpack Due backpack Questo ci sta scambiando Per patate e guzza burri Ciao Frodo Ora con B Aprite tutto l'inventario Guardate quanto spazio Siete felici amici Io ho una palla Che fa otto danni Amici Che volete Che bello Non è quello l'importante L'importante è capire E partecipare Usiamo gli incantesimi Volete provare a usare Gli incantesimi? Vorremmo Ma non su queste armi Ma no Senza armi Ah Non ho capito Cosa cazzo volete Nella mia vita Non ti può sparare Un fulmine Certo Dobbiamo fare Gli spellbook Gli spellbook hanno In base a come lo fai Gli slot Dell'incantesimo Poi Possiamo Prendere le pergamene Che abbiamo Bello Possiamo cliccare Su questo tavolo Mettere Il libro E l'incantesimo E trascrivere L'incantesimo E dovremmo Poterlo Castare Sì Oh mio dio Sì È vero Cos'è? Oh guarda Porco Oh palla di fuoco Palla di fuoco Mamma mia Ma come è fatto a castare? Con V Ah ecco Oh Dardo incantato Dardo incantato Come faccio a scagliare? Con la V Con la V Guarda già lui Sei tu che lanci Oh Oh Palla di fuoco Dardo incantato Dardo incantato Dardo incantato Oddio Dopo Guarda dopo Il fulmine magico Incredibile Che cosa ha fatto? Vediamo che fa questa Oh Che figo Il fulmine Faccio sta magia Oh Sei un necromante Oh Hai messo i walking Bello Combattono per noi? Dai Siamo pronti Ma raga Aspetta Capiamo Dove dobbiamo andare Allora No Adesso possiamo tornare Lì dove eravamo E prendere la Waston E tornare a casa Quando vogliamo Venite Venite di qua C'era una torre Basta con ste torre Voglio distruggere i boss Siete tutti? Allora andiamo a nord Amici A nord Oh C'è qualcosa Oh Un villagione Un villagione Incredibile Ah Vichingo Parrebbe Parrebbe vichingo Ci sei domo? Da cosa lo evinci? Eh Dall'architettura Delle strutture Domoloco Ma sembra Sembra abbandonato C'è una casa Ah Warehouse Raga È una vecchia È una vecchia colonia Ah Ho trovato il ware Il magazzino Esatto Crea una nuova colonia Oddio Ho cliccato cose E ora? Dovrebbero arrivare i tizi E adesso siamo responsabili Desta colonia Che sta lontanissima Da casa Vabbè Possiamo mettere a Waston Come la chiamiamo? Villaggio vichingo Norwin Norwin È arrivato un tizio Eccolo Kaiden Kaiden Kaskens Questa non è male Perché già ci stanno le strutture Quindi potremmo avere già un'idea chiara Di come la colonia si potrebbe sviluppare È molto complicata la main colonia Raga Però è anche molto bella Cioè tu gli puoi Gli dai gli strumenti Che ne so Al minatore Al raccoglitore A queste cose qui Sì Qua dentro c'è questo coso Questo edificio è stato abbandonato Insieme alla colonia Tanto tempo fa Puoi riattivare questo edificio E permette I citizen di vivere qui Ok Ah io ho riattivato la torre di guardia Raga Troviamo anche le altre strutture Ah riattiviamoli tutti Riattifiamoli tutti Questo è il boulder sat Che bello però eh Beh che fichissimo E vi stavo dicendo Praticamente Vanno un po' gestiti Perché tipo Gli devi dare assolutamente il cibo Sennò Sbroccano E tutto quanto Però poi è molto carino Perché vedi proprio la città che si muove Che vive Ma come glielo diamono il cibo però a questi Beh gli devi mettere un farmer Con gli strumenti Che farma Ok dalla mappa Sono tutte attive Tranne quella dove c'è il giallo adesso Fatto Attivata Non è che muoiono Se li abbandoniamo un attimo Per esplorare No Ok Ma anche se morissero Possiamo farne degli altri Dove dobbiamo andare allora Io suggerisco sempre nord Sempre nord Andiamo a nord Allora Proseguiamo a nord La torre Dove? La torre Dopo loco Lo scettro di Nettuno Bella Eh allora Lo scettro di Nettuno Sembra molto Non sembra ospitare però Un'entità Oddio Uno scheletro di una balena Di pietra Aspettiamo Domolochio Siamo con voi Siamo nell'oceano più profondo Signore Andiamo Oddio Not Bisogna fare un parkour Qui Non è possibile farlo Sì è possibile Con il libro però è più facile Un'altra waystone Si code No non la rompo Usiamo questa qui E portiamoci a casa quell'altra No dico se vogliamo andare a casa Ah sì No qui c'è una cesta La mettiamo dove vogliamo Domolochio riesce a salire Lentamente Ma lentamente Scusate Scusate Un empty map Usala Tasto destro No No Non so perché faccio questa cosa ogni tanto Non lo decido io Uh c'è qualcuno là Dove Un pò Un pò Un pò Un pò Un pò Un pò Oddio sono tutto oscurato Palla di fuoco Non funziona Bestia di satana Gli sparo tutto Io vado Aiuto Uccidetelo L'oscuro L'oscuro signore Li guida Uccidete quell'infima creatura Occhio Lascia Lascia Aiuto giallo Aiutami Ok Defolto Uccidetelo Sta Oscuro Sta sopra Sta sopra Non riesco a fare niente Lo vado a prendere Ma non esce Eccolo Oddio Ma ha oscurato C'ha 600 punti ferita Colpitelo ragazzi Sto morendo Sto morendo Non so dove sia Ti avvicinato Eccolo Fulmine No Non lo vedo E' qui E' qui Ah io mi state colpendo Sto morendo Sto morendo Sto morendo Sto miei Non uccidete i zombie Arrivo pure io Con l'asciona Fuoco Non riusciamo a togliere Dall'acqua Che uso questo No Gli fa danno Gli fa danno Se ne infischia Il mio fuoco Dardo incantato Dardo incantato Dardo incantato Ahia Dove è andato E' qui Ah io Forza Non vedo niente Sto uccidendo i miei zombie Si mettono in mezzo I zombie Dardo incantato Dombo proteggiti Vola Dove è andato E non è che vola Toglio la levitazione Ragazzi non vedo niente Non vedo niente E' defunto E' defunto E' defunto Abbiamo sconfitto Questo boss Arche insense Che ci ha dato Questo Che ci ha dato Un senso arcano Materiale epico Della apotecari Serve per fare I reforging table C'è una cesta Eh una sola Uno scroll A e o Ragazzi ho trovato La cura La cura Vi cura Cura tutti In un'area Oh Vi posso proporre Di tornare a casa E chiudere Si Va bene E' stato divertente Dai alla prossima La prossima volta Mi autoprometto Di non uscire dal ruolo Ma quale ruolo Non lo so Lo inventerò la prossima volta Va bene Dai la prossima volta Se volete lo facciamo più serio Più fantasy Alla prossima Alla prossima Amici miei Si chiama Tom Storage Cree E' una Simple Storage Ma senza Import ed export Solo visione Dell'inventare Molto molto carina E si confa tanto A Quei pack Un po' più Low tech Dove Ci sta bene Anche visivamente Il pack si chiama Cisco Adventure Il pack è Figo Però non è pesante Sai quei pacchetti Un po' E' soltanto Cazzeggione Poi sei fortissimo Lo skill tree E' molto interessante Cioè io vedi Sti 6 punti Non li ho spesi So arrivato qui E posso switchare di qua Per prendere La rigenerazione Zero progressione logica No non c'è Una progressione logica E' tutto a cazzo Però posso essere sincero E' davvero difficile Su minecraft Con tutte le mod Tirare fuori Una progressione vera Fatta bene Attenzione Noci 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 Noci